Lunedì 20 maggio, cazzetta marinella, oceani a vista, è quasi nel suo viaggio inaugurale. Gran traffico nel porto di Tocvento. E' stata varata nei fincantieri di Sestri Ponente a Genova, design tutto italiano, costruzione italiana, ma anche gli ufficiali dovrebbero essere italiani. Sta concludendo una lunga crociera in cui ha spaziato per tutto il Mediterraneo orientale, isole greche, Malta, oggi è qui a Sorrento e domani a Civitavecchia per sbarcare i suoi mille passapasseggeri. Grazie.